Buongiorno, mi ha cicchettato eh, subito, mi ha cicchettato, ma anche mi ha salutato, mi ha cicchettato, vuoi che non mi sembrava il mimo, tira giù nessuno eh, aspetta, che fretta, c'è un tempo fino alle 5 stasera che diventa buio eh, qua è lunga eh, ancora tutte le moto sui carretti, come dicevamo prima, se vengono qua con gli assistenti sociali, 104, cioè una per uno ce ne danno qua eh, ma stai scherzando? Ah cazzo, l'unico pilota che ha acceso la moto, cazzo, e l'andava no, e l'andava no, guarda che era il fanti che faceva così, che non partiva, ci voleva 5 volte, poi partiva, non devi mettere il gasolio, non va bene il gasolio, manutenzione, neanche l'italiano era così oh, no, aspetta, aspetta, adesso arrivo, devo tenere accaduto il TRS, cazzo, scorta, dopo tutto sto tempo, è mica come il Montesa eh, eh, capito, non è il Montesa che lo lasci da un mese se va lo stesso, poi non va eh, come la sua, tipo Fantic, mi sembra il minimo, preparati, basta che non dite cazzate, aveva paura delle zone, aveva paura delle zone eh, non vedi che è arrivato da Rimini due minuti, due minuti fa, ciao via, ciao via, e scorta qualcuno deve documentare eh, sennò è inutile, lavoratore unitevi, ciao 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 ciao